Giustizia, anticorruzione, lei da quale dei due vuole partire? Guardi, mi concederà ovviamente lo spazio che ha concesso anche agli altri. Guardi, io credo che il tema sia un tema squisitamente, il nodo è squisitamente politico. È evidente che ci sono dei contrasti, l'ha detto benissimo la dottoressa Milella, ci sono dei contrasti durissimi non solo all'interno della maggioranza. Io ieri ero in Commissione Giustizia quando si è votato il disegno di legge sulla prescrizione e NCD ha evidentemente votato contro il governo, salvo poi io credo che quel dissidio verrà ripianato nel tempo di pochissimi secondi come spesso accade. A Renzi batterà i tacchi e Alfano si adeguerà. Il problema però è squisitamente politico perché ad esempio non è stato ancora detto ma l'emendamento sul falso in bilancio che dovrebbe entrare nel dirle anticorruzione non esce da Palazzo Chigi e non arriva in Parlamento perché vi è all'interno del governo un contrasto fortissimo ad esempio col Ministro Guidi, col Ministro dello Sviluppo Economico che per due motivi non vuole che la norma sulla cancellazione della non punibilità per il falso in bilancio approdi così come parrebbe essere formulata visto che l'emendamento non c'è ancora perché questo creerebbe evidentemente dei gravi problemi alle piccole imprese e darebbe un potere discrezionale clamoroso ai magistrati. Mi consente di dire due cose velocissimamente. Ci si dimentica che in questo momento nel Paese una legge anticorruzione c'è ed ha fallito che è la legge Severino che è stata approvata nel 2012 voluta dalla sinistra e questa legge ha fallito. Questa legge ha introdotto alcuni reati come ad esempio la corruzione tra privati e il falso e il traffico di influenze illecite che è rimasto sostanzialmente disapplicato. Quindi una legge sulla corruzione c'è, una legge che non ha funzionato che probabilmente oggi la sinistra vorrebbe cambiare sulla parte dell'incandidabilità per le vicende di Luca e di Magistris però una legge c'è. E l'altra cosa che dico è che noi possiamo sulla corruzione introdurre tutti i reati del mondo aumentare le pene, i massimi e i minimi digitali delle pene quanto al massimo possibile ma se non viene applicato un principio che per noi è un principio sacrosanto che è il principio della certezza della pena tutto l'impianto non sta in piedi. Ricordiamo e lo diceva oggi la dottoressa Milella su Repubblica che settimana prossima probabilmente in Consiglio dei Ministri verrà portato il cosiddetto decreto legislativo sulla non punibilità dei fatti di particolare tenuità. Meglio semplificato, la depenalizzazione in astratto di 157 reati 157 reati che potrebbero essere archiviati del plano dai magistrati garantendo impunità a chi ha commesso questi reati e tra questi 157 reati c'è anche il 318 cioè la corruzione propria. Io credo che ci sia un grave problema politico e si debba passare dall'anticorruzione delle parole e degli annunci all'anticorruzione vera. Il dato di fatto è che dopo 254 giorni, cioè da quella famosa conferenza stampa del 30 giugno 2014, la grande riforma della giustizia è rimasta nelle slide di Palazzo Chigi e nei selfie del Presidente Renzi. Ma senta, allora ha ragione il Presidente Piero Grasso, Molteni, secondo voi? Io credo che il Presidente Grasso ponga una questione seria. Quindi ha ragione, per una volta ha ragione, questa è già una notizia. Il problema sa qual è? La Lega è sempre molto in opposizione con il Presidente Grasso. Il problema è che nel contrasto alla corruzione manca un disegno organico perché noi abbiamo il disegno di legge Grasso al Senato, abbiamo un disegno di legge del governo sulla ragionevole durata dei processi e sull'aumento delle pene sulla corruzione alla Camera. Abbiamo la legge Severino che è la legge attualmente applicata e poi abbiamo il disegno di legge sulla prescrizione che va ad aumentare fino a 22 anni la prescrizione per alcuni reati di corruzione grave. La controdomanda! Manca un disegno organico.